Un noto manager ha dichiarato che manderà il proprio figlio quando avrà 14 anni a studiare in Svizzera perché gli insegnano bene le regole e dopodiché dice una volta terminate le superiori non gli farò fare l'università, perché tanto gli insegnerò io il mestiere. Mi vengono spontanee due considerazioni, la prima riguarda l'educazione, cioè il fatto che oggi sempre di più la famiglia ha bisogno di protesi educative, quindi si manda nel collegio dove insegnano le regole, si manda dai preti e sarebbe da domandarsi ma perché si fa così, perché si ha bisogno dell'istituto dei preti, della scuola prestigiosa? Evidentemente perché c'è una crisi normativa ed educativa da parte della famiglia. Mi fermo soltanto un momento però su quella che mi è sembrata la cosa più provocante, là dove questo signore dice a mio figlio non ha bisogno dell'università perché gli insegno io. Con una battuta un po' Trancham mi verrebbe da dire che i figli dei grandi, industriali, manager, letterati, eccetera, qualche volta sono degli eredi veri che mettono a frutto ciò che hanno ricevuto, qualche volta sono idioti limitandosi a dilapidare il bene che ha ricevuto. Non sarà certamente il caso di questo manager, però la domanda di fondo rimane, ma a che cosa serve la cultura? Perché è chiaro che dietro questa affermazione non manderò mio figlio all'università, c'è un'idea molto opportunistica della cultura, cioè la cultura che serve soltanto nella misura in cui ti serve per far soldi e questo non soltanto detto da parte di chi di soldi ne ha tanti, ma qualche volta anche da parte di poveracci che fanno i soldi e sono senza cultura e che quasi con un atto autoliberatorio dicono non serve mica la cultura per diventare ricchi nella vita. In realtà non dovremmo mai dimenticare che la cultura ha un'altra funzione, la funzione della cultura non è quella di far soldi anche eventualmente, ma prima di tutto è quella di aprire la mente, di tirar fuori la pietra preziosa che c'è in ognuno di noi, l'eventuale poeta, l'eventuale letterato, l'eventuale professionista, ma è la cultura quella davvero che ti apre gli occhi e soprattutto ti umanizza, ti rende più umano perché ti fa capire che il mondo non è quello del tuo ombelico.